Yo! E penso di starci dalle 10 di mattina, ossia quando apre la fiera, fino alle 2 al massimo 3. Inoltre questo romics è abbastanza speciale. È infatti la prima fiera dove vado dopo il vlog dei 100.000 iscritti. Quindi il mio bel faccione ormai lo sapete, questa è la mia barba nel frattempo. E ovviamente non verrò col cappello, ma verrò con la mia maglietta, ovviamente con il mio logo. Quindi la faccia la sapete, la maglietta la sapete. Dovreste trovarmi, spero. Se mi volete cercare, ovviamente. Un piccolo favore, se possibile. Cercate di non girare con i cartoncini con su scritto cercasi i pochi tonks o simili. Perché ne ho visti alcuni allo scorso romics e tipo... Quindi, il video è finito. Vi ricordo molto rapidamente. 29 settembre, 1 ottobre, 2 ottobre. Dalle 10 alle 14.30 circa. Quindi, io e Diana vi salutiamo, sperando che non mi graffi e... Buona visione della parte numero 69 di SoulSilver. Attenzione. Salute! No, ok. Ha ancora paura della fotocamera, quindi... Non posso farci assolutamente nulla. E giù. O no? Va bene, resta così per un po'. E se è brutto in un safari con una tigre... Va bene. Ciao. Anzi, see you tra poco! Ciao. 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 Grazie a tutti.